La procura tranese ha aperto un'inchiesta sull'incidente avvenuto ieri mattina alla periferia di Trani in cui è rimasto ferito un operaio di 64 anni. L'ipotesi di reato è di lesioni colpose, mentre al momento non risultano persone indagate e si procede contro ignoti. Un atto dovuto, quello della magistratura tranese, che vuole fare luce su quanto è accaduto in via Papa Giovanni XXIII, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile. La vittima è rimasta affolgorata riportando delle ustioni di secondo grado. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. In base a quanto è emerso finora, a seguito degli accertamenti da parte dei tecnici dello spesal della ASLBT, l'uomo stava lavorando su di un ponteggio vicino ai cavi dell'alta tensione. Per cause ancora in corso di accertamento, il 64enne sarebbe rimasto impigliato per poi essere raggiunto da un passaggio di corrente. Subito soccorso dal personale del 118, l'operaio è stato trasferito d'urgenza al Policlinico di Bari, dove è tuttora ricoverato presso il centro Ustioni. Le sue condizioni sono giudicate stabili. Sul posto, assieme ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Trani e quelli della Polizia di Stato, che hanno avviato i dovuti accertamenti sull'accaduto. Grazie a tutti.